Cari amiche e cari amici, Francesco Lamedola, come è iniziata la deriva apostatica della Chiesa? Non è più tempo di gemiti e lamenti, ma di agire. E tuttavia, per poter agire in maniera appropriata, bisogna prima aver ben compreso la situazione. La domanda centrale è sempre la stessa, come ha avuto inizio la deriva apostatica della Chiesa e di conseguenza? Come mai nessuno pare essersene accorto per tempo? Questo secondo interrogativo non è una sterile forma di autocolpevolizzazione, al contrario, è di importanza decisiva per sapere come regolarsi, quale strada prendere. Se i cattolici riusciranno a capire come sia stato possibile che la casa nella quale abitano venisse trasformata radicalmente fino al punto di essere irriconoscibile e diventare un tempio satanico, e ciò senza che ce ne rendessimo conto, allora sapranno anche quali tecniche usa il nemico o quali strategie devono adottare per difendersi dalla sua maligna aggressione. Quelli che hanno una sessantina d'anni sono nella posizione migliore per vedere e per comprendere, poiché hanno avuto la possibilità di conoscere direttamente la Chiesa prima del Concilio o di prima che il Concilio iniziasse a diffondere i suoi errori e a sovvertire il suo DNA, pervertendo tutto l'insieme delle verità, dei valori, degli insegnamenti autenticamente cattolici, e perciò possono misurare la distanza abissale sconvolgente che separa la vera Chiesa di Cristo dalla sua orribile contraffazione satanica, che separa uomini come Pio XII, San Pio da Pietralcina, padre Cornelio Fabbro, Don Divo Barsotti, da uomini come Bergoglio, padre Turoldo, il cardinal Casper, il gesuita James Martin, e che separa tanti bravi preti e parroci di campagna, di quartiere fino a due generazioni fa, umili, silenziosi, colti, saggi, pieni di spirito santo, da quei preti e parruci di oggi quali riempiono le chiese di opere d'arte, blasfeme, aboliscono il credo, annullano la messa di Natale in omaggio ai migranti, intonano bella ciao, bella ciao al termine delle sacre funzioni, si presentano all'altare con Sharpar Cobalino, e celebrano apertamente l'amore gay, invitando a salire davanti a Santissimo le coppie omofile, per presentarle ai fedeli, come esempi edificanti di perfetto amore coniugale. Un'enormità che faceva far arrabbiare anche molti omosessuali intelligenti. Per aiutarsi nella comprensione di questo apparente mistero, faremo un'analogia con un film horror, e ciò non sembri cosa frivola o rispettosa, infatti è proprio un film dell'orrore quello che stiamo vivendo, o meglio, che stiamo interpretando nostro malgrado. I meccanismi psicologici, grazie ai quali il mare penetra in una comunità e finisce per distruggerla, prima che qualcuno lo veda e lo riconosca per quel che è, prima che qualcuno sappia cogliere gli indizi della sua presenza, sono esattamente gli stessi della storia vera nella quale ci troviamo immersi, e che somiglia effettivamente a un incubo vissuto ad occhi aperti. Il film in questione, Le Notti di Salem, originariamente una miniserie in due puntate, girato da Tobe Hopper nel 1979, e tratto da un romanzo di Stephen King, di quattro anni prima, narra la storia di una cittadina immersa tra i boschi del Main, a un posto apparentemente tranquillo nel suo isolamento, che viene invaso da vampiri, fino alla sua completa rovina e al susseguente abbandono. Tutto avviene molto in fretta, nel giro di pochissimi giorni. Ma l'invasione era stata preparata con cura da tempo, un insospettabile commerciante di antiquariato, funge da pilota al maestro, che deve ancora arrivare. Poi, quando avrà iniziato l'attacco, i vampiri si riprodurranno in progressione geometrica, mano a mano, che cresce il numero delle vittime ignare, trasformate a loro volta in non morti. Il solo che stava in guardia, e che infatti è il primo a rendersi conto di quello che sta accadendo, è uno scrittore che era nato in quel paese, dove aveva trascorso l'infanzia, e che ora è ritornato, attratto da una forza misteriosa, da una spasmodica curiosità, che si polarizza su una vecchia, grande, casa, dalla fama sinistra, situata all'ingresso del piccolo centro. È lì, infatti, che il maestro si insedia. Ed è da lì che parte la strategia di conquista della cittadina. Ben, il protagonista, che ha preso una stanza in affitto, dalla cui finestra può tenere d'occhio la casa, osserva con crescente preoccupazione gli spostamenti del pilota, è presente che qualche cosa di terribile sta per accadere. È un presagio. Alla fine, gran parte degli abitanti soccomberanno, solo pochi riusciranno a fuggire, gran parte degli abitanti soccorreranno, le fiamme distruggeranno le case, e Salem diventerà una ghost town, una città fantasma ancora abitata dai quei vampiri che il fuoco non è riuscito a eliminare e seguiteranno a perseguitare Ben in ogni angolo del mondo. Ci siamo soffermati su questa storia, perché in essa c'è un significato che si applica perfettamente alla presente situazione. Come i pacifici abitanti di quella cittadina, i cattolici si sono abituati a una vita tranquilla, fin troppo tranquilla. Si sono scordati che la vita è una milizia, che bisogna sempre pregare e vigilare, e che le forze del male non vanno mai in vacanza, perché, come dice San Pietro nella prima epistola che porta il suo nome, il diavolo si aggira in cerca di chi divorare. Una volta lo sapevano, anzi, lo avevano sempre saputo, ma poi è arrivata la modernità, sono arrivate la scienza, la tecnica, l'idea di progresso, quella dei diritti, quella del concetto è stato dismesso come un abito che non si usa più. Improvvisamente nella Chiesa Cattolica si è messa in archivio l'idea che la vita è una milizia, che il cristiano è un mille scristi. Improvvisamente, dal Concilio Vaticano II, sono diventati tutti amici, belli, brutti, buoni e cattivi, anche i nemici di sempre, o meglio, si è fatto finta che fossero diventati amici. Improvvisamente ci si è messi a gettare ponti in ogni direzione, anche verso la risalassatezza, la tentazione, il peccato, a battere furiosamente i muri difensivi che proteggevano i fedeli. improvvisamente si è diffusa la mentalità buonista, pacifista, rinunciataria, secondo la quale il cristiano, dopo tutto, è uno come tutti gli altri, che deve stare al mondo come ci stanno gli altri, e darsi il buon tempo finché può. Perché poi la vita finisce, e con essa finisce tutto quello di cui si ha certezza. Se per caso c'è anche una vita eterna, questo, con certezza, non lo sa nessuno. Quindi è meglio non pensarci troppo, regolarsi come se questa vita terrena e questo corpo di carne e sangue fossero tutto ciò che abbiamo. E non è ancora tutto. Poiché la caratteristica essenziale dei cattolici moderni è di aver sostituito in maniera discreta, in dolore, apparentemente senza contraddizioni, il punto di vista cristiano con il punto di vista moderno. La gran parte di essi hanno fatto qualcosa di peggio che annacquare la propria fede e abbandonare, senza averne l'aria, il modello del Vangelio, per sostituirlo con il modello consumista. Hanno socchiuso la porta e invitato le forze del male a entrare nelle loro vite. Ci sono due maniere di invitare le forze del male. Una esplicita, l'altra implicita. La prima è la maniera dei satanisti, dei massoni di Altrogardo, dei praticanti di magia nera, perché la magia è tutta nera, come insegnava l'esorcista padre Amort. La cosiddetta magia bianca non esiste. La seconda è la maniera di quanti, per curiosità, superficialità, ignoranza, assoltezza, noia, colpevole e negligenza, indulgono a stili di vita che sono già di per sé un richiamo alle forze del male, anche se tale invito non è formulato in termini aperti e pienamente intenzionali. Nella società anglosassone, ad esempio, negli ultimi decenni, va fortissima la moda della wicca. La praticano migliaia, migliaia di persone, specialmente donne, affascinate da una mistura di femminismo esoterico, occultismo e trasgressione, con alcune spruzzate di panteismo, animismo, naturismo, il tutto in salsa New Age. Ne fanno parte soprattutto persone colte, appartenenti alle classi medio-alte. Non è come si potrebbe immaginare un fenomeno popolare, è un fenomeno di élite. È molto diffuso tra professionisti, finanzieri, politici, scrittori, attori, gente di spettacolo. Ha conquistato una bella fetta di Hollywood e così, attraverso l'opera dei produttori e dei registri affiliati ad essa, diffonde ampliamente i suoi temi, le sue suggestioni, una propaganda più o meno manifesta delle sue pratiche. Dal cinema, alla televisione, ai giochi di società, ai libri, alle riviste specializzate, si fa per dire, anche di bambini, ai fumetti, alla letteratura, vedi Harry Potter, all'oggestistica, ai corsi di formazione, alle associazioni culturali. La moda della wicca prolifera, si diffonde a macchiadori, in ogni ambito guadagna consensi, si presenta sotto una voce seducente. Anche ai cattolici annoiati, desiderosi di provare nuove emozioni, di sperimentare un nuovo rapporto con le forze della natura, con la madre terra, altrimenti detta Pagia Mama. Per fare un esempio tra mille, nel libro Una strega New York, Phyllis Corratt, una donna che svolgeva la professione di avvocato, racconta ai suoi lettori come si è entrata a far parte di una cerchia di donne che praticano la magia cosiddetta buona, allo scopo di trovare saggezza e onorare la natura, riportando alla luce i poteri femminili oscurati da secoli di religioni patriarcali, come il cattolicesimo, è da lei esplicitamente citato. E accanto alla wicca ci sono tutta una serie di pratiche esoteriche, cartomanzia, astrologia, sedute spiritiche, anche medicine alternative, non tutte, ma alcune, i cui rituali altro non sono che degli inviti alle forze del male a prendere possesso degli incoscienti apprendisti stregoni. In Italia la stregoneria è meno diffusa. In compenso, pullululalano sette esoteriche di ogni tipo che in genere hanno in comune pur nelle diverse specifiche è la cosa essenziale, un orientamento antropocentrico, naturalistico, una rivolta latente o esplicita contro la tradizione, in particolare contro il cattolicesimo e la sua morale, è una rivalutazione e assolutizzazione della dimensione inconscia, primitiva, irrazionale, e repressa, secondo i loro cultori, delle religioni monoteiste, dalle convenzioni sociali e della stessa religione naturale. Anche in questo caso, il più delle volte non si tratta di gruppi e di pratiche intenzionalmente orientati verso il satanismo e le forze del male, ma che tuttavia ne sono l'anticamera. Così, come lo sono del resto, il culto della pratica del rock estremo, specie nella versione di alcuni artisti specializzati nell'area dark come Marilyn Manson, i quali si pongono come intermediari rispetto alle forze oscure, già nell'aspetto fisico, volutamente scioccante o ripilante, come in uno spregio intenzionale alla bellezza della creatura prediletta da Dio. E così, come esiste in una sociologia dei culti e delle pratiche che sono oggettivamente vericolose, in quanto si pongono con compiacimento ai limiti del mondo delle tenebre, ugualmente esiste una geografia del male che nel caso dell'Italia ha il suo centro nevralgico a Torino, uno dei vertici del triangolo magico Parigi-Torino-Praga e ha la sua base operativa in Piemonte, in particolare nella provincia di Asti, ove, come ci ha fatto notare un dotte per spicacio rettore, hanno avuto in Italia alcuni personaggi chiave della cultura anticattolica e anticristiana dei nostri anni, pur se non legati direttamente agli ambienti esoterici e occultistici. Occorre far notare che le radici familiari del signor Bergoglio, il contropapa che sembra incarnare le profezie dell'anticristo, si trovano in quella zona. Ma anche altre regioni d'Italia sono interessate alla geografia oscura, in particolare la Toscana, ove crediamo che ben pochi della nostra generazione se siano mai scordati gli orribili delitti del cosiddetto mostro di Firenze, dietro i quali non ci vuole molta fantasia per immaginare non dei criminali sessuali isolati, ma una rete diffusa di tipo satanico che evidentemente ha potuto avvalersi di numerose complicità per depistare le indagini e stendere una cortina protettiva intorno a alcune figure, alcuni circoli insospettabili, intoppiabili e intoccabili. Del resto, la Toscana è una regione dove la massoneria è capillarmente diffusa con la sua rete tentacolare, come pure l'Umbria e l'Emilia, ove le loggie sono decine, centinaia, anche nelle città minori. E la massoneria profana a sua volta è strettamente collegata alla massoneria ecclesiastica che ormai a nove era una quota non certo piccola di vescovi, i cardinali giunti a occupare i principali punti chiave della Chiesa. La sua opera nefasta si è palesata, specie con la cosiddetta riforma liturgica di Paolo VI, promossa dal massone arcivescovo Bugnini, e prosegue mediante l'introduzione dei simboli massonici nelle Chiese, nei conventi, nei seminari. Si pensa ai simboli massonici profussi nel santuale di San Giovanni Rotondo, destinato ad accogliere le spoglie mortali di Padre Pio progettato dall'architetto Renzo Piano. Stiamo parlando di un'organizzazione potentissima, totalmente senza scrupoli, capace di far dimettere i papi sgraditi come Benedetto XVI, di insediare personaggi che non potrebbero essere eletti a norma di diritto canonico come il gesuita Bergoglio. inoltre capace di eliminare papi scomodi. Giovanni Paolo I morì mentre si accingeva a fare un repulisti dei vescovi massoni. Insomma, questi non arretrano di fronte a nulla. Il sacerdote Don Luggivilla, incaricato da San Pio di Pietralcina, ufficiosamente da Papa Pio XII, di fare un'ampia inchiesta sulla massoneria ecclesiastica, subì ben sette e dico sette tentativi di omicidio. Eh, difficile dubitare che a salvargli la vita sia stata la speciale protezione della Vergine Maria. E occorre ricordare la fine di Roberto Calvi, di Michele Sindona, banchieri legati alla massoneria e in strettissimo contatto con ambienti vaticani, specie lo IOR di Monsignor Marsinkus o la fine del giornalista Minope Corelli che aveva gettato un fascio di luce inquietante sulla zona di intersezione tra finanza, massoneria, mafia, politica e alto clero. Perciò, alla domanda come è iniziata la deriva apostatica della Chiesa? la risposta è con la vittoria dello spirito del mondo nel clero e nei fedeli. Bene, cari amiche e cari amici, un pollice su per il mio lavoro sempre incollati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.